Gennaio è il mese tradizionalmente più rigido dell'anno, ma per le Marche condenserà settimane calde di grandi manovre nella lotta al Covid-19. Si comincia domani, 4 gennaio, con il debutto dei nuovi farmaci per le terapie domiciliari. Il Remdesivir e il Molnupiravir entrano nelle case dei malati di Covid attraverso l'azione delle USCA marchigiane per terapie che confidano di ridurre gli ingressi ospedalieri in terapie intensive e subintensive. Il 6 gennaio invece la Befana della Sanità Marchigiana porterà tamponi gratis nelle tasche dei bambini. La regione ha infatti organizzato per l'Epifania una giornata di test antigenici gratuiti dedicati agli studenti delle scuole elementari e medie che hanno avuto contatti stretti con casi positivi al Covid o che manifestano sintomi compatibili al virus. Alle porte di un incerto ritorno sui banchi di gennaio le Marche dunque vogliono scongiurare lo spettro della didattica a distanza, soprattutto in quella fascia di età fra i 5 e gli 11 anni dove sono stati vaccinati appena 4.000 bambini su 92.000. I tamponi in questione saranno test antigenici rapidi somministrati gratuitamente al punto tamponi pesarese di via Lombardia, al Codma di Fano e al punto in località Sasso di Urbino. Priorità regionale dichiarata è il mantenimento delle elezioni frontali assieme alla maxi somministrazione delle terze dosi. 450.000 quelle promesse dalla regione entro il 31 gennaio con un potenziamento degli hub. Si stanno infatti liberando nuovi spazi per le vaccinazioni e per chi non è riuscito a prenotare la terza dose prima dei mesi di febbraio-marzo è in arrivo da oggi un sms dal servizio CUP che consente di anticipare le prenotazioni nel mese di un mese che ora avrà altre due date cardine quella del 5 gennaio in cui il governo Draghi potrebbe decidere per vaccino e super green pass obbligatorio in ogni luogo di lavoro e quella del 10 gennaio che vedrà l'estensione del super green pass a tantissime attività del vivere quotidiano.